SENTINELE 5 I Grain, Lafayette! Mi sembra molto rischioso, amico mio. Vuoi già arrenderti, Marchese? In posizione! Ti seguo! Andiamo! Dì qua! Presto! Andiamo dentro! Riponete le armi. Lafayette Galad. Prendete la cabina di pilotaggio. Senza clamore. D'accordo. Isabaud verrà con me in ricognizione. Servono occhi sul campo tra gli ospiti. Peccato che non abbia nulla da mettermi. Dovrei rinnovare il guardaroba. Regole d'ingaggio, monsieur? Fate ciò che serve. Non c'è tempo per distinguere cospiratori, ribelli e guardie della compagnia. Abbiamo già operato senza un piano d'emergenza. È vero. D'altro canto, vi lotteremo la nave ammiraglia della Compagnia delle Indie Unite. Domande? Allora andiamo. Sebastian, devo chiederlo. Chi era il vecchio con cui parlavi a Mayfair e Wenchaple? Il vecchio... È una lunga storia. Una storia che ti racconterò quando sarà il momento. C'è ancora molto che devo scoprire da solo. Spero tu sappia ciò che fai. Sembra che il consiglio inizia a sospettare di te. L'ordine non è più ciò che era, Grayson. Già. Non è la prima volta che lo dici. Pazienza, amico mio. Tutto a tempo a debito.